E spero di riuscirle a dire queste parole. Mi perdoniamo se mi prendo qualche tempo di più. Buongiorno a tutti voi, buongiorno all'amministrazione comunale che ha speso un'ora del proprio tempo per condividere insieme alla nostra famiglia questo momento molto importante. E' una grande emozione per me prendere parola ad un evento così significativo e non nascondo la commozione che ho avuto quando mi è stato chiesto di farlo. Chi era Diego? Lo sappiamo tutti. O meglio, molti di voi lo ricorderanno come un ragazzo solare, uno di quelli sempre con la battuta pronta, che a volte poteva apparire anche un po' superficiale, mentre in realtà lui non era solo questo. Diego è un ragazzo molto riflessivo, curioso e capace. Amava la natura in tutte le sue sfaccettature. Era un artigiano, con le sue mani era capace di costruire qualsiasi cosa. Era un ragazzo molto umile e preferiva far trasparire leggerezza davanti agli altri, erendo per sé le sue passioni, i suoi pensieri e i suoi momenti.